Ingredienti gnocche, bietole e ricotta per 4 persone. Preparazione 40 min cottura 20 min vino lamb nisco mantovano rosato secco, 700 grammi di bietole, 4 uova vivi verde, 400 grammi di ricotta, noce moscata, 300 grammi di farina bianca, 00. Sale per il condimento parmigiano reggiano d'op fior fiore, burro. Preparazione gnocchi di bietola e ricotta. Lessate le bietole. Eliminate le icoste e tritate le foglie finemente. Mettete la ricotta in una terrina e unite le bietole, le uova, la farina e una grattata di noce moscata. Impastate fino a ottenere un composto omogeneo e morbido. Su un piano ben infarinato formate con l'impasto dei filoni, da cui ricaverete tanti pezzetti di pasta lunghi circa 2 cm. Lessate gli gnocchi in acqua bollente salata e, dopo pochi minuti dalla ripresa del bollore, scolateli. Servite gli gnocchi conditi con burro fuso e parmigiano grattugiato.